buon blu amici ci troviamo a creta e sono in un negozio con un amico che ho appena conosciuto che è un venditore vedete di spugne di mare e ho preso l'amico si chiama your name is costis costis ho preso delle spugne da portare al museo del mare milazzo guardate che collezione ricchissima che ha abbiamo preso quelle più rappresentative mi ha spiegato tante storie che adesso vi racconterò questa per esempio si chiama orecchio di elefante per questa sua forma quando gesù era sulla croce hanno l'hanno imbevuta con l'aceto e gliel'hanno data a cristo in bocca e questa invece questo è silk questa è honeycomb perché vedete ha come dei buchetti del denito delle api e questo qua invece silk base alla colorazione si capisce a che profondità sono state prese questa ad esempio è abbastanza chiaro è stata pescata a 20 metri quest'altra invece molto più scura a 40 mi sta raccontando tantissime storie ve le farò conoscere al muma museo del mare milazzo ciao grazie